Una buona serata, un saluto a tutti i telespettatori, in particolare agli amici di Sanremo, perché lo avete visto dalla sigla, questa è la trasmissione dedicata alla città dei fiori a Sanremo al vuoto e allora andiamo a conoscere un altro candidato sindaco della città di Sanremo, per la verità un candidato che già conosciamo molto bene, immagino sia conosciuto anche dal pubblico, anche per la sua attività professionale di avvocato, è infatti l'avvocato Alberto Pezzini di Futura Sanremo. Buonasera, benvenuto, grazie per essere qui con noi, perché insomma un impegno indubbiamente civico il suo, partiamo da lì, questa candidatura con Futura Sanremo, come si suol dire una candidatura che parte dal basso, che non ha sostegno di segreterie politiche? Questo è il dubbio, parte proprio dal basso nel senso che noi ci tengo sempre a sottolinearlo, siamo stati i primi a partire effettivamente nelle amministrative, quando siamo partiti noi, che siamo lillipuziani, perché noi siamo una lista molto modesta, molto piccola, ma con grande ambizione, come diceva Dickens, questo amo sempre sottolinearlo, per incanto, per incantamento, per usare un termine dantesco, sono partiti tutti gli altri. Avete dato un là, via. Si vede che abbiamo dato un là, però la cosa fondamentale è che noi ci teniamo a conservare, a mantenere, come un appannaggio esclusivamente nostro, questo carattere della civitas, cioè noi siamo veramente una lista civica, io dico sempre siamo una lista civica in purezza e non soffriamo di contaminazioni, poi chi vuole intendere, intende. Direi che è molto chiaro come ragionamento, perché noi stiamo già parlando di Sanremo al voto, in realtà la campagna elettorale ufficiale non è ancora cominciata, le candidature non sono state ancora depositate, però ci pare di capire che ormai gli schieramenti sono già ben definiti e quello che ci dice Pezzini è che lui sarà candidato sindaco a tutti gli effetti, non ci sarà domani un cambio, un'alleanza con un altro candidato o ingressi particolari. Diciamo che me l'hanno chiesto, devo dirlo, mi fa piacere dirlo. Eh beh, io infatti ho un po' provocato proprio per arrivare lì. Mi fa piacere dirlo perché la cosa mi ha anche un po' colusingato, però le cose che lusingano alle volte bisogna anche guardarle col beneficio di inventario. Io sono arrivato a 51 anni, 50-51 quando ho accettato questo impegno, ho detto se lo faccio lo voglio fare giocandomi una partita bella, appassionata. E allora tra di me ho pensato, io voglio spendermi per la città, amo questa città, senza falsa modestia ci ho scritto anche un libro che è Il viaggio nel ponente Ligure che la riguardava, un po' la toccava. Non ho persone da ringraziare, a parte i miei compagni di cordata che si spendono tantissimo in termini di energie fisiche, morali, lavorative. Beh, facciamoci questa avventura, ma facciamola nell'interesse pubblico e civico e qui ritorna il refrain nostro. Insomma, Benzini, è un impegno serio al di là delle battute e delle considerazioni, l'impegno è serio, l'impegno è quello di voler comunque arrivare all'amministrazione della città di Sanremo. L'impegno è serio, se mi permette, proprio per questo motivo, perché secondo me siamo arrivati ad un momento storico, contingente, in cui la città di Sanremo effettivamente non è mai stata così in decadimento. Quindi io a un certo punto ho detto, unisco una data, un momento storico della mia vita, ripeto questo purtroppo cammino che arriva a metà della mia vita, insomma mi auguro 50 anni, con un aspetto oramai, una condizione insalubre addirittura della città, che in qualche modo grida vendetta. Ho detto, o lo faccio adesso o non lo faccio più. Ecco, ma condizioni difficili di Sanremo, le dice insalubre, quindi insomma una città su cui mettere le mani, con quali programmi? Allora noi… Futura Sanremo, come vede il futuro di Sanremo? Facciamo un po' questo besticcio di parole. Allora quando… Non lo vorrebbe. No, dico, le prime volte in cui anche voi mi avete intervistato avevo usato un endia di un po' infelice, lacrime e sangue. Mi aveva intervistato la signora Barbarotto e usai effettivamente questa espressione che mi dissero, forse è meglio non usarla, perché ricorda anche tristemente il governo Monti. Io la usai perché per me storicamente ricordava qualcosa di più passato, di più risalente, cioè Winston Churchill. Quindi una situazione è molto difficile, assai difficoltosa. Qui è inutile fare delle dieterologie, secondo me. Tu hai fatto male, quello ha fatto male, quell'altro ha fatto male. È come quando finiscono le relazioni amorose. Sono finite. Bisogna prenderne atto, cambiare, svoltare pagine e andare avanti. Noi abbiamo un programma molto sintetico, che io adesso non dico ancora, perché mi sono stufato di farmi copiare da certuni, però posso dire che è un programma estremamente scarno, estremamente compatto e che si incentra soprattutto sul recupero in generale della città di San remo. Certo, la città di Sanremo ormai va ripulita, quindi dalla immondizia che ha letteralmente crivellato le nostre vite e le nostre strade, al recupero della sicurezza, perché il problema nostro oramai è quello di vivere le difficoltà e le paure di una grande metropoli, mentre siamo ancora una città che dovrebbe essere a misura d'uomo. E poi naturalmente un rilancio di quella che noi abbiamo definito un po' l'asse portante anche del programma, la cultura. E la cultura, quando io ne parlo mi dicono tutti, ma questo è pazzo. Invece la cultura, ho fatto anche degli esempi molto concreti, non è qualcosa di astratto, di astratizzante. A Cuneo la cultura è stata utilizzata come una nuova visione, una nuova forma mentis per rivalutare a livello urbanistico il centro storico. Il risultato qual è stato? Un sacco di soldi. Allora io sarò un pazzo, sarò un sognatore, sarò un visionario. Scusate che ho una condizione fisica. Purtroppo è il periodo. Ma se riuscissimo effettivamente a coniugare questa visione, anche un po' danunziana se vogliamo, con una concreta realizzazione, Sanremo potrebbe tornare a essere la città dei mandarini di un tempo. Del resto, voglio dire, la battaglia sulle capitali della cultura a livello nazionale si combatte in continuo. Ormai cultura è diventata un binomio inscindibile anche con il turismo. C'è il turismo culturale e così come c'è il turismo balneare, il turismo legato ai prodotti tipici, quindi quello enogastronomico. Voglio dire, almeno nelle considerazioni non dovrebbe più essere un faranino di coda. Poi magari nella pratica succede ancora. Guardi Matera, cosa sta succedendo a Matera in questi giorni con il capitale della cultura del 2019? Diventano effettivamente dei catalizzatori del turismo. Ha detto bene lei. La cultura a un certo punto non va vista come qualcosa in laboratorio, cioè qualcosa di inerte, fermo, rinchiuso in una specie di orto concluso. Va vista come uno strumento per fare i soldi, ma fare i soldi in modo pulito. Se noi riuscissimo, questo è anche uno dei miei cavalli di battaglia, noi riuscissimo a rivitalizzare la pigna di Sanremo, come a Cuneo è stato fatto in relazione al centro storico, noi riusciremo non solo a ripulirla e pensate a cosa significhi effettivamente l'utilizzazione di questo verbo, ma riusciremo addirittura a fare in modo che la pigna possa tornare ai vecchi fasti di un tempo e a essere uno dei territori maggiormente battuti dal turismo. Oggi invece la pigna è divisa, diciamo, rispetto alla città di Sanremo convenzionale, quella che noi tutti frequentiamo, da una linea immaginaria. Cioè è diventata una delle città invisibili di Calvino, ma è veramente invisibile perché molti hanno paura di andarci, questo non deve più accadere. Sì, un po' il Bronx di antica data, perché adesso paradossalmente il Bronx, quello vero, si è rivalutato e ha saputo recuperarsi, questo è un po' l'assurdo. Senta, Avvocato Pezzini, Sanremo equivale da sempre a Casinò. Questo Casinò, gioie, dolori, più gioie, più dolori, è un'opportunità o paradossalmente a volte diventa un ostacolo per lo sviluppo della città di Sanremo? Secondo il suo punto di vista, chiaramente. Allora, io prima di tutto ci tengo a dirlo che sono un figlio d'arte. Mio papà era un coppie, è morto e è andato in pensione da ispettore, mio cognato fa il coppie e quindi il Casinò è una realtà che posso dire, ci sono cresciuto, ecco mi ha fatto fare gli studi il Casinò. Per me il Casinò di Sanremo è una straordinaria opportunità, che va sempre rivalutata, il Casinò di Sanremo è una specie di animale domestico che noi abbiamo che va sempre tenuto al caldo, cioè va coccolato in continuazione. Io ultimamente non ho potuto che esprimere delle opinioni fortemente critiche nei confronti dell'attuale direzione del Casinò di Sanremo, ma perché? Ma perché quando vedo che c'è, dico l'acqua calda, scopro l'acqua calda naturalmente, quando vedo che il bilancio di un Casinò municipale di Sanremo alla fine viene dilaniato da delle consulenze esterne per circa 2 milioni di Euro, cosa volete che dica a un certo punto? Non posso che esprimere naturalmente una opinione critica, perché se a capo della gestione di un Casinò si mette un consiglio di amministrazione e anche un direttore generale capite già che c'è qualcosa che comunque è una specie di surplus che non serve. Se a ciò uniamo addirittura un dispendio eccessivo in materia di consulenze, va da sé che un Casinò, anziché diventare un'opportunità, in quel caso rischia di divenire un fanalino di coda e qualcosa che ci possa ostacolare. Oggi stiamo vivendo in un momento storico in cui le case da gioco stanno chiudendo letteralmente. Una forse che funziona più di tutto è ancora Venezia, perché è ancora arroccata intelligentemente su certi giochi tradizionali. Noi certi giochi tradizionali li abbiamo persi perché abbiamo cessato di fidelizzare, sapientemente come si faceva un tempo, i grandi giocatori che non vengono più. Quindi o il Casinò effettivamente torna ad essere un centro anche qui di attrattiva del turismo e del turismo dei giocatori che giocano pesantemente o rischiamo di avere sempre un animale domestico azzoppato. Torno ancora per un istante al discorso della cultura per ricordare che il Casinò di Sanremo è stato da sempre, da circa un secolo addirittura, una specie di roccaforte della cultura. Parlo di Tommaso Landolfi che è morto per esempio ad Arma di Taggia, era un grandissimo giocatore, un cantore del Casinò. Parlo di Dino Buzzati, parlo di tanti. Io quando ero bambino mio papà mi portava all'epifania, alle feste per i figli degli impiegati e le posso dire che nel mio ricordo di bambino, quindi un po' falciullesco, però molto vivido ancora, io ricordo una specie di tripudio per gli occhi per noi bambini. Quella realtà è scomparsa, si è dissolta. Io vorrei che il Casinò di Sanremo tornasse a essere il mio Casinò con i miei occhi di bambino. Una battuta che si è sempre fatta non solo a Sanremo, anzi forse ancora di più all'esterno, dai non Sanremesi o Sanremaschi, vogliamo essere più precisi, è che a Sanremo hanno il Casinò, dovrebbero esserci marciapiedi lastricati d'oro. E questi marciapiedi lastricati d'oro Sanremo non li ha mai visti, pur avendo il Casinò. Non vorrei fare una battuta infelice, ultimamente i nostri marciapiedi sono lastricati di qualcos'altro purtroppo. Il problema è questo, lei riesce abilmente a mettere il dito nella piaga in poche parole. Come è possibile che una città di Sanremo, con un Casinò del genere, con una potenzialità simile, siamo sempre una città in affanno? Però cosa vuole che le dica? Purtroppo qui è una realtà amara, se io penso che Area 24, che è una società che aveva in gestione una lingua di asfalto, per quanto lunga, una pista ciclabile, finita in liquidazione, una pista ciclabile meravigliosa. Oggi qual è la situazione di questa pista ciclabile? Pezza scassata, le fontane che sono disseminate non funzionano, sono secche, apri, niente da fare. Le crepe oramai si stanno moltiplicando, non esistono telecamere, le telecamere non funzionano, c'è il pericolo anche lì come sappiamo per gli episodi naturalmente di violenza che si sono consumati, la società è in liquidazione e noi ci chiediamo il perché. E perché? Però anche qua, se lo andiamo a chiedere a tutti gli amministratori passati, lei faccia una considerazione e di tutti quegli amministratori non ce ne manca più uno. Consulenze a go go, amministratori che oramai se ne sono andati e il brutto sa qual è, che noi ci teniamo la pista ciclabile scassata e in marciapiedi non la stricati d'oro. Quindi insomma un intervento un po' deciso, bando alle consulenze, impegni concreti su singoli temi, su singoli progetti se così vogliamo dire, questo è Futura Sanremo? Sì, le consulenze non è che non servano, le consulenze servono quando sono strategiche, arrivano al momento giusto e sono assolutamente indispensabili. Quando le consulenze esorbitano da quello che è lo strettamente necessario e diventano appannaggi strani o marchette, non vanno più bene, perché naturalmente il bilanciamento a questo punto si farina in qualche modo. Certo, poche idee ma molto chiare, bisogna intervenire in certi settori a gamba tesa e basta. Grazie Alberto Pezzini per la sua chiarezza e il linguaggio non politichese, perché insomma è molto netto e deciso, senza tanti fronzoli. Noi naturalmente ci diamo un arrivederci, perché siamo soltanto all'inizio, quindi ci saranno altre occasioni di approfondire, di andare a scoprire anche quelle parti di programma che Pezzini appunto non vuole rivelare per mantenere il copyright, evitare copiature. E allora ne parleremo penso e spero più avanti Pezzini, d'accordo? Grazie mille di avermi invitato. Grazie a lei per essere stato qui con noi, grazie al pubblico e un saluto soprattutto ovviamente agli amici di Sanremo che hanno la grossa responsabilità, l'onore e l'onere di dover presto andare a scegliere chi li dovrà amministrare in futuro. Arrivederci, buona serata.